Una ventina di frati assediati all'interno della Basilica della Natività di Betlemme per 39 giorni con 200 palestinesi e fuori l'esercito israeliano che preme. È il famoso assedio specchio della guerra in Terra Santa raccontato a forgia dal vicario della custodia di Terra Santa dove la pace è da tempo impossibile. La Terra della pace non ha visto la pace da 75 anni perché c'è la guerra, l'odio, la violenza e la vendetta e perché anche non c'è il perdono, non c'è giustizia e quello che non c'è fino adesso è veramente perché non c'è il perdono e non sanno perdonare, non esiste il perdono. L'incontro con padre Ibrahim rientra negli eventi della città che vorrei ed è stato promosso dal direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di UniFG Gaetano Servidio. Ci sono quelli che credono nella pace e quelli che lavorano per la pace ma ci sono anche quelli che contro la pace e purtroppo la strada della pace è molto più difficile della strada della guerra. Mi piace sempre ripetere una frase, quello che succede nella Terra Santa è una guerra, un massacro tra tante persone che non si conoscono, nell'interesse di poche persone che si conoscono ma non si massacrano tra di loro. Quando siamo vicino a un accordo di pace e quelli che non vogliono la pace fanno qualsiasi cosa per saltare tutto ed è sempre così.